Siamo in Toscana ma non siamo in campagna Andrea ancora, la cravatta la puoi tenere No no, ecco anzi mi sembra giusto, ora si è andato a preparare, mi ha lasciato solo Andrea ma eccolo qui, perché abbiamo bisogno di Andrea Daldin? Perché è lui l'uomo di Lamole Ora detta così, cosa vuol dire? Questo cognome è molto florentino Sì, molto proprio toscano ruspante Daldin, ma in realtà raccontiamo invece dove è lui e dove opera Cos'è Lamole? Perché se ne sente parlare ma mica così tanto, in Chianti Classico? Sì, siamo nel cuore del Chianti Classico, tra le province di Sena e di Firenze, nel comune di Grevi in Chianti Una delle zone storicamente riconosciute per tradizione vitivinicola Però è un po' strano vero Lamole, è un po' fuori da quello che è il Chianti Classico Siete anche a un'altezza strana, raccontaci un po' questo burgo La principale caratteristica di Lamole è l'altitudine, quindi i nostri vigneti arrivano fino a 650 metri di altitudine Quindi caratteristica importante per quello che è la ventilazione e le temperature che sono completamente differenti rispetto a tutto quello che è il Chianti Classico Altra caratteristica principale di Lamole è l'illuminazione L'illuminazione è fondamentale per la fotosintesi Senza la luce la fotosintesi non va avanti e quindi non c'è lo sviluppo e la maturità delle nostre vignette E quindi tu dovresti descrivere i vini che producirà, che vini sono, quanti ettari avete Ma più che altro, ecco, alla fine cosa si deve aspettare uno che li va ad assaggiare? Uno che viene a Lamole si deve aspettare un vino elegante Che ha comunque una bella persistenza, una buona profondità, una grande territorialità Una caratteristica unica, di un territorio unico all'interno del Chianti Classico Quindi note molto fruttate, note speziate, elegante, una buona acidità ma una grande progressività e profondità Senti, e quindi quali sono tutti i Chianti Classico, le etichette inerbate e quali sono esattamente? Allora, due vini più giovani, l'etichetta bianca, un Sangiovese con un po' di canaiolo L'etichetta blu, un po' più internazionale, quindi Sangiovese, Merloi, Cabernet E in fine? E due riserve Ah, ecco, ben due riserve Una riserva tradizionale, quindi Sangiovese e canaiolo e una gran selezione Campolungo, vigneto di Campolungo, una singola vigna, 10 ettari di superficie All'interno del quale, con basse produzioni, riusciamo comunque ad ottenere un vino che ha più struttura Nota non tipica di Lamole No, assolutamente, anche perché dici, ha parlato ora di eleganza Quindi, beh, secondo me lui ha veramente dato l'idea e la voglia di andargli a trovare E te, Andrea? Io, Lamolese Doc, io, Lamole, ci devo andare per forza in pellegrinaggio Ma anche tu sei la voglia Ah, certo Quindi dobbiamo andarci per forza, altrimenti ci levano questo Ah no, continuiamo a essere, insomma Quindi ti veniamo a trovare di sicuro, Andrea Grazie Sempre volentieri, grazie a voi